India, avaranasi, i dalit che raccolgono escrementi e vengono lasciati morire nelle fogne. Burundi, esecuzioni sommarie e persecuzioni, 1700 dossier alla corte dell'Aia. Siria, dopo la guerra e il freddo, morti 15 bambini, l'allarme dell'Unicef. Honduras, i mandanti dell'assassinio dell'attivista Berta Caceres restano impuniti. Pena di morte, in Iran, 106 donne impiccate durante la presidenza Rouhani, in India, 102 persone alla forca nel 2019. Pena di morte, nel 2019, 184 esecuzioni in Arabia Saudita e i primi due colpi alla nuca nel 2020 in Bielorussia. Cina, l'orribile tratta delle donne birmane usate come incubatrici. Diritti dell'infanzia, ma i bambini afghani hanno paura ad andare a scuola. Un medico, Alberto Barbieri, scrive E se potessi racchiudere in un'immagine tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine che mi è familiare, un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, su cui volto e nei cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero. L'uomo è seduto davanti a noi nel posto medico per l'assistenza psicologica. Un piccolo modulo di plastica, il caldo e soffocante, siamo nel deserto, a pochi chilometri da Gades, nel campo allestito dall'Aknur per i rifugiati in fuga dalla Libia. L'uomo sudanese a 30, forse 40 anni, racconta di come è fuggito dal Darfur, dove il suo villaggio è stato distrutto e parte della sua famiglia sterminata. Il resto delle persone a lui care, un figlio e un fratello, le ha perse nei campi di sequestro libici, dove è rimasto quasi un anno. Poi la fuga ancora in Algeria, perché l'accesso alle coste libiche e all'Europa era bloccato. È stato costretto a una marcia forzata nel Sahara, fino in Niger, ad Agades. L'uomo ha perso tutto, le persone, le cose, la sua terra. Racconta la sua storia con un tono di voce regolare, monotono, in un silenzio assoluto, in cui anche il respiro di noi medici sembra essersi fermato. Sembra che la sua voce debba spezzarsi da un momento all'altro e trasformarsi, se non in pianto, in lacrime. Ma non avviene. Al termine, il suo sguardo appare perduto, i suoi occhi vuoti, il suo corpo scarno ripiegato su se stesso. Da un angolo della mia memoria, riemerge la descrizione di un uomo ad Auschwitz, in sequestro un uomo, di Primo Levi. Egitto, di Al-Sisi. Non sai neanche come salutarli, due bambini così piccoli che osservi nel buio della notte, mentre sognano gli eroi e le eroine delle fiabe che racconti loro di giorno. Fa male dire loro che alla fine vissero tutti e felici contenti sapendo di mentire. È un brano del lungo racconto di Nensio Kail, attivista egiziana condannata a cinque anni di carcere nel giugno del 2014, nell'ambito del processo contro le ONG, che ha portato alla condanna di 43 attivisti con l'accusa di aver ricevuto fondi illegali per aver lavorato per le istituzioni fuori legge e aver sostenuto l'opposizione al governo e le sue poche organizzazioni di protesta. Racconto pubblicato in un libro, Fuga dall'Egitto, inchiesta sulla diaspora del dopogolpe, di Azzurra, Meringolo e Scarfoglio, con la prefazione di Moni Ovadia. Moni Ovadia, sì. È un reportage all'interno della nuova diaspora egiziana, composta dagli esoli di ultimissima generazione. Giornalisti, sindacalisti, artisti, medici, poeti, politici, attivisti, per i diritti umani scappati dal loro paese quando, dopo il golpe dell'estate 2013, i militari sono tornati al potere. Un viaggio che parte da New York e Washington, tocca la Silicon Valley, Londra, Berlino, Doha, Istanbul e arriva quasi al Polo Nord. I nuovi esoli egiziani sono arrivati fin qui per sfuggire al carcere, a sommare i processi di massa, a tentativi di cooptazione, alla censura di chi non voleva che raccontassero, ad esempio, dettagli scomodi sulla tragica fine di Giulio Regeni. Per alcuni l'esilio è arrivato dopo lunghi periodi di detenzione, segnati da torture fisiche e psicologiche. Dalla diaspora raccontano il viaggio con il quale è iniziato il loro esilio, spesso una fuga improvvisa che li ha resi parte di quella che alcuni storici hanno già definito la più importante ondata migratoria della storia dell'Egitto contemporaneo e tra gli esoli che sognano di tornare in patria nasce anche una nuova intelligenza che lavora per quando in Egitto tornerà la libertà. Azzurra Meringolo, dice Moniovadia, con questa panoramica umana sugli esoli di un paese governato da una dittatura, ci sollege da non lasciare nel dimenticatoio donne, uomini e processi che non abbandonano il campo a seguito di una sconfitta, ma la metabolizzano e riprendono il cammino con altre modalità, ma con lo stesso orizzonte ideale. Mentre Riccardo Nuri, nella sua introduzione afferma, l'Egitto è considerato da molti paesi occidentali un partner chiave nella lotta al terrorismo a livello regionale e questa è la giustificazione usata per rifornirlo di armi, software, di sorveglianza e altro materiale nonostante le prove che dimostrano il loro utilizzo per commettere gravi violazioni dei diritti umani. I nuovi esoli egiziani, intervistati dall'autrice, sono dispersi nel mondo per sfuggire al carcere, ai tentativi di cooptazione, alla censura di chi non voleva che raccontassero, ad esempio, dettagli scomodi sulla tragica fine di Giulio Regeni. Per alcuni l'esilio è arrivato dopo lunghi periodi di detenzione, segnati da torture fisiche e psicologiche. E' questo il punto. E' proprio questo il punto. Il punto è che nel momento in cui tu prendi un uomo, lo rinchiudi in un luogo quanto più possibile austero, quanto più possibile duro, ostile, quest'uomo ha commesso possibilmente una colpa, un errore, ma diventa un reato inimmaginabile agli occhi dello Stato, agli occhi delle persone che compongono lo Stato, agli occhi anche delle persone che sono anche fuori dallo Stato. Allora quest'uomo merita l'oblio, merita di essere torturato, merita di essere sottoposto a delle sofferenze inimmaginabili, merita di scomparire. Questa non è la mia storia. Per fortuna non lo è stata. Mi chiamo William, William Hayes, e sono uno studente. Sono nato a New York nel 1947, il 3 aprile. Sono uno studente e sono nato in un'epoca particolarmente fortunata che è quella relativa al fatto di vivere in un'atmosfera permeata dalla novità. I giovani vogliono cambiare. I giovani vogliono trasformare questo mondo. Da tante parti, da tutte le parti del mondo, c'è questo bisogno, questo desiderio, questa spinta. C'è il 68 europeo. C'è Joan Baez. Ci sono i Beatles. C'è già John Lennon da solo che spinge insieme a Yoko Ono. Ci sono tanti, tanti che attraverso le arti ispirano noi giovani a voler cambiare questo mondo. A voler fare a meno di quelle cariatidi che hanno spinto il mondo sull'orlo della distruzione. Perché la seconda guerra mondiale è accaduta solo pochi anni fa. Io sono nato nel 47 fino a due anni prima della mia nascita. C'erano ancora bombe, morti, distruzione. Ci sono stati i 160.000 morti istantanei di Hiroshima gli 80.000 di Nagasaki e dopo nemmeno due anni di dichiarazione della pace gli Stati Uniti sono di nuovo entrati in guerra in Corea. Non c'è verso. Non riusciamo proprio a stare tranquilli. E allora noi giovani ci creiamo un mondo di pace e cerchiamo di propagarlo alle altre persone attraverso il nostro atteggiamento attraverso la nostra musica attraverso la nostra arte. Che cos'è che può far parlare la libertà? Prima di tutto abbattere qualsiasi tipo di barriera per quanto riguarda il sesso. Il sesso non è più un mistero il sesso non è più un privilegio il sesso non è più un qualcosa da diciamo da oltrepassare con le dovute cautele no. Adesso il sesso è libero amore libero e per raggiungere l'estasi anche oltre è necessario oltrepassare il muro è necessario aprire le porte della percezione e in tutto questo ovviamente ci aiutano anche delle sostanze esterne che noi assumiamo. Ashish LSD Eroina Comincia l'era dei viaggi alcuni finiscono bene altri finiscono un po' male e riprendersi da un viaggio andato male è sempre molto difficile ma non parliamo di questo parliamo del fatto che in questo momento io sto vivendo un'epopea libera naturale ho 21 anni e il 1968 sono in America sono con i miei compagni di classe sono con i miei amici e parliamo del nostro desiderio di viaggiare di esplorare il mondo perché non ci basta più vivere sul territorio americano vogliamo vedere cosa accade in Europa cosa accade nelle arti e parti del mondo cosa accade in Indonesia cosa accade in Indocina cosa accade nel Vietnam cosa accade nel Laos cosa accade in Cambogia cosa accade in India cosa accade in Pakistan cosa accade in Cina questo nostro desiderio di viaggiare che diventa più forte del nostro desiderio di vivere di mangiare di respirare di scopare più forte di ogni cosa e questo desiderio travolge anche me William detto Billy Hayes Hayes H A Y E S Hayes E per permettermi questo bisogno di viaggiare dato che mio padre per 30 anni è andato in giro per l'America a far firmare assicurazioni è diventato un uomo medio si è conquistato con la fatica col sudore col sangue con le lacrime quel suo piccolo angolo di sogno americano ma più in là di quello non è andato io invece voglio andare oltre voglio esplorare voglio conoscere voglio vivere perciò per viaggiare non chiedo i soldi a lui me li guadagno da solo e allora cosa faccio entro in un ospedale dove aiuto dei pazienti entro in qualità di assistente ospedaliero e un giorno passando davanti a una camera vedo una persona che si sta facendo ingessare la gamba e osservo il medico che intinge nell'acqua le bende di gesso dopodiché le mette una sull'altra il gesso si solidifica e diventa una forte corrazza e quest'idea io la prendo e la metto un attimino da parte nell'angolo sinistro del mio cervello non so perché ma quest'idea viene messa lì da una parte l'esperienza diventa totale nel momento in cui un giorno arriva tra noi Patrick Patrick ha già realizzato quello che è il nostro sogno Patrick viaggia in giro per il mondo Patrick spaccia hashish in piccoli panetti noi conosciamo già le droghe conosciamo Grazie a tutti.